L'avete preparata benissimo, avete giocato a viso aperto in un'atmosfera molto calda contro una squadra comunque offensiva. Il pareggio all'ultimo è stata una beffa. Per come si è svolta la partita senza ombra di dubbio. Abbiamo fatto i primi 24-25 minuti dove abbiamo dominato l'incontro non costruendo tantissimo. Il gol è stato il giusto coronamento di una squadra che è venuta qui a viso aperto. Dopodiché è cambiata l'inerzia della partita. Il Cerignola l'ha fatta. Noi dopo 10 minuti di secondo tempo ci siamo sistemati in modo difensivo molto attento. Non abbiamo rischiato quasi nulla se non qualche cross che veniva dalla corsia di destra. Purtroppo allo scadere in pieno recupero abbiamo preso il gol che sa di beffa. Il punto per noi è un punto importante. Potevano essere tre e continueremo a lavorare e a migliorarci perché questa squadra per quello che dimostra in campo per anche la benegazione che ci sta mettendo merita alta classifica.